Ma lei come si chiama? Pietro Giordano, Pietro Giordano, Pietro Giordano. Giordano? Sì. No, sa perché glielo chiedo? Perché poco fa venendo qui c'erano dei bambini che giocavano a palla e uno dei due al suo indirizzo ha detto testa di... testa di... non sono riuscito a sentire il resto, testa di... testa di minchia, testa di minchia, testa di minchia. Ma a chi a lui? No, a me. A chi? A me. Che le dicevano? Testa di minchia. È pesante? Sì, sì. Però lei? Però io non ci faccio caso. Prego la santuzza che le faccia smettere. testa di minchia, testa di minchia. T'ho fatto il bagnaccio, con il noto, sbommercato, su che minchia. Ma con chi ce l'ha? Con questi ragazzini. Ma non ha detto che pregava? Sì, ma mi fanno arrabbiare. Ogni tanto anche lei perde la pazienza? Sì. Però poi? Poi ci ripenso, me ne pento e prego Santa Rosalia. E come la prega? Così, guarda. con risultati? Scarsi. 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 Ma come mai? Che Santa Rosalia ha altri problemi per la testa che pensare a queste cose. Sì, altre cose.